Allora, oggi era il giorno della tua gara, i 200, e ti sei comprovata campionessa in Italia. Le tue sensazioni in acqua, in vista comunque di un impegno molto più importante e sicuramente più più neoso. Mi aspettavo questa gara oggi, il tempo non è eccezionale, ma comunque sto lavorando tanto, quindi la stanchezza, la pesantezza di braccio inizia a farsi sentire, però comunque sono contenta di aver fatto una gara costante e di non essere morta alla fine, quindi significa che comunque l'allenamento c'è. Devo solamente continuare così, aspettare il tapering che sarà tra un po' di settimane per arrivare al top, alle Olimpiadi, vediamo. Credi, grazie.